Grazie a tutti, salve buonanissimi. Per chi non ci conosce, va neanche se era possibile, noi siamo la compagnia FIAPA Junior. Sono parecchi anni che facciamo teatro, negli ultimi sei anni abbiamo un po' sbottato, ci stiamo dedicando al musical e lavoriamo con i ragazzi, dai 8 ai 62, perché sono tutti ragazzi, quindi come vedete è una bellissima famiglia. Siamo all'isovoto, come di fronte, però ecco, siamo ben volentieri venuti in questa vera trasferta. Penso che oggi l'emozione si possa tagliare a pette, è veramente forte. È stato un percorso lungo, fatto di tanti scontri, ma soprattutto di tanti incontri. Il tempo stringeva e le idee moltiplicavano, ognuno di noi ha dato un piccolo contributo per la realizzazione di questo spettacolo. Ma è stato sicuramente uno spettacolo che ci ha dato tante soddisfazioni, a partire dal fatto che abbiamo avuto l'opportunità di recitare per le classi elementari e per le classi medie del quartiere 4. E oggi siamo qui a recitare per Filippo e penso che lui sarebbe orgoglioso di noi, come noi siamo orgogliosi di essere su questo palco per lui. Tempo fa, preso dal panimo, disse ad Angelo, Angelo, se saliamo sul palco quest'anno siamo veramente invincibili. E dato che siamo alla sesta replica, qui al Puccini, penso di poterno, con un po' di presunzione forse, affermare a gran voce che la Chiama Junior è veramente invincibile. e se c'è una cosa che ho imparato è di non smettere di vedere nei propri sogni, perché quando si mette il cuore in quello che si fa, si arriva veramente lontano. L'ospettavo aveva anche una proposta che Angelo mi fece di dire perché non si fa qualcosa sotto Milano? Quindi io disse, ma ci proviamo. E io ho buttato giù le musici nei manzoni, però senza loro, cioè senza questi ragazzi, questo non sarebbe l'ospettavo. Perché loro l'hanno fatto fino a stasera, ci hanno aggiunto cose loro, ci credono proprio, lo sentono loro. Ed era la cosa che mi stava proprio a cuore, perché quando si fa qualcosa dice, ma forse riuscirà, anche perché partino da uno scetticismo. Ed è bello vedere che c'è un filo che è partito e che ci lega per tanti aspetti, insomma, e che ci porta a essere vivi, insomma, utili per gli altri. Quindi grazie veramente. Applausi Allora, basta. Io sono semplicemente per farvi l'augurio, l'augurio di essere capace di emozionarvi. E questa forse è la cosa più importante. Un spettacolo deve far passare un'emozione e speriamo che la possiate davvero vivere anche voi, come la viviamo noi, stando lì solo. E l'esperienza di Rileggio dei Doni Lani è stata forte, perché molti di noi non avevamo appena conoscevamo. L'invito che vi rivolgiamo è di riapprofondire la figura per chi ha l'opportunità alla faccia. Buon divertimento e davvero grande emozione a tutti. Applausi Grazie. Grazie.